Allora, buongiorno a tutti. In questo 25 aprile 75esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, festa della liberazione che quest'anno dobbiamo, come dire, affrontare tutti stando a casa, siamo in collegamento, in videocollegamento con Marcello Flores da Milano, Marcello Flores è storico conosciutissimo, grande esperto del Novecento, che proprio di recente ha pubblicato insieme a Mimmo Franzinelli questo libro, Storia della Resistenza, pubblicato dalla casa editrice La Terza, in cui ha ricostruito minuziosamente e con moltissime informazioni e con grandissima competenza la storia complessa della resistenza italiana. Questo periodo che va dall'8 settembre del 1943 al 25 aprile del 1945, che non solo ha segnato la fine della guerra, ma ha anche segnato la nascita dell'Italia repubblicana. Ecco, di questo vogliamo parlare oggi con Marcello Flores e innanzitutto vi chiederei immediatamente qual è, dal suo punto di vista, se si può parlare di una resistenza o è meglio parlare di più resistenza, visto che è una storia complessa e anche complicata per certi versi. Intanto, buongiorno a tutti, grazie per questo collegamento, per questo invito. Per molto tempo come resistenza si è sempre ritenuto che si dovesse parlare di quella combattuta in montagna dai partigiani o dai gap nelle città, cioè di quella armata. Adesso sono ormai tanti anni che nella stereografia, e non solo nella stereografia, è diventato abbastanza normale invece pensare alla resistenza come a un insieme di tante resistenze diverse che sono state delle forme particolari di opposizione al nazifascismo che poi hanno trovato nel Comitato di Liberazione Nazionale e nell'Unione dei Partiti Antifascisti il momento politico centralizzato. Certamente quell'armata è stata quella per certi aspetti più significativa, ma senza tutte le altre resistenze, chiamiamolo così, non potremmo parlare di quel grande evento collettivo che si è sviluppato in Italia dall'8 settembre del 43 al 25 aprile del 45. Ecco, quali sono alcune di queste anime della resistenza? Magari le possiamo ricordare. Innanzitutto c'era un'anima che era quella molto minima da un punto di vista numerico dell'antifascismo precedente alla guerra, dell'antifascismo precedente all'8 settembre. Sono quegli antifascisti che sono quelli tra l'altro di età un po' maggiore della maggior parte dei resistenti che magari hanno combattuto in Spagna e che quindi tornano dall'esilio per combattere in Italia. Ci sono poi quelli che scelgono di andare a combattere per motivazioni diverse. La maggioranza in genere lo fa per evitare di andare a rispondere alla chiamata alle armi della Repubblica Sociale Italiana che si forma immediatamente dopo l'8 settembre. Chi non si presenta alla chiamata dell'esercito repubblicano rischia la condanna a morte e quindi molti decidono di fuggire, di andare in montagna a combattere invece per una scelta che sembra quella da un punto di vista politico, morale, patriottico, quella più giusta. Per i nostri amici francesi che magari non conoscono perfettamente la storia d'Italia va ricordato appunto che la Repubblica Sociale Italiana è quella poi creata da Mussolini ed è l'ultimo ridotto del fascismo, insomma. Certo, perché subito dopo l'8 settembre Mussolini viene liberato da Hitler e è convinto, costretto possiamo dire, a creare questo governo fantoccio che nell'Italia del Nord si situa sul lago di Garda a Salò per l'appunto. Un altro gruppo molto forte di resistenti sono i militari che hanno deciso di non fuggire, non sciogliersi, non nascondersi, non tornare a casa ma neanche ovviamente aderire alla Repubblica di Salò e quindi cercano in tutti i modi di dare una mano unendosi ai primi gruppi di partigiani che si stanno organizzando. Ci sono poi dei resistenti inizialmente loro malgrado per esempio tutti gli internati militari, cioè quelli che i tedeschi e sono 700.000 che arrestano, a cui chiedono di andare a combatterle per la Repubblica Sociale e che si rifiutano e che quindi rimangono nei lager tedeschi, polacchi, dove erano stati rinchiusi fino alla fine della guerra e sono dei resistenti anche loro, perché pensiamo solo cosa avrebbe significato un numero di 700.000 uomini in più a combattere con i tedeschi e la Repubblica Sociale italiana in quegli anni. Ci sono poi tutte le varie forme di deportazione politica, razziale, sono tutte persone che sono deportate perché combattono, perché hanno combattuto o perché rappresentano una minaccia per il fascismo e il nazismo. Ma poi c'è una parte della popolazione civile che, anche se non sceglie direttamente di prendere le armi, molti perché magari anche ideologicamente sono contrari alla violenza, pensiamo a tantissimi sacerdoti del basso clero soprattutto, che decidono però di aiutare tutti quelli che si vogliono mettere contro il nazifascismo con forme più diverse, portare informazioni, dare informazioni, fare trasmissioni, fare da portaordini, fare da staffette, portare da mangiare ai partigiani, il vestiario, rifugiare quelli che si nascondono, trovare delle vie di fuga per i prigionieri alleati che devono andare in Svizzera o da altre parti, far fuggire per quanto è possibile gli ebrei che sono perseguitati. Ecco, sono tutte forme che rappresentano una quantità che non possiamo stabilire con chiarezza numericamente, ma che sicuramente sono 4-5 volte più numerosi di quelli che combatteranno con le armi. Ecco, in questo paesaggio frastagliato della resistenza, credo che un ruolo importante l'abbiano avuto le donne e in particolare nel vostro libro tu e Franzinelli sottolineate il ruolo delle donne che in passato era stato un po', se non dimenticato, comunque un po' sminuito. Questo avviene fin da subito. Se noi pensiamo che anche le donne, che erano non molte, che hanno combattuto nelle brigate partigiane, alla maggioranza di esse fu impedito il 25 aprile e i giorni successivi di percorrere con le loro brigate partigiane le vie e le piazze della città per celebrare la vittoria, in alcuni casi gli fu permesso per fortuna, perché si riteneva che per la popolazione era meglio, in un periodo in cui il modello della donna era ancora quella dell'educazione fascista, a tutta casa e famiglia, era bene non far vedere questa combistione. Quindi c'era una visione della donna che doveva tornare a casa, cosa che dopo il periodo della guerra si cercherà come società nel suo complesso di fare. Quindi l'idea è stata sempre quella di sminuire il ruolo delle donne. Ora, a parte quelle che hanno combattuto e alcune sono anche diventate vicecomandanti di brigate partigiane, ma le donne soprattutto hanno svolto un grande lavoro nel collegamento, nella logistica. Si parla in genere delle staffette, però al di là delle staffette c'era proprio un lavoro di informazione, di portare le armi, di nascondere. Le donne apparentemente rischiavano di meno perché i tedeschi le lasciavano girare con maggiore possibilità che non degli uomini giovani che sarebbero stati arrestati immediatamente e mandati o a combattere o nei campi. Però se le donne venivano prese con addosso anche solo un foglietto, non tanto le armi, ma qualcosa che portavano i partigiani di comunicazione, eccetera, venivano fucilate immediatamente. Quindi il loro rischio era grandissimo e la capacità soprattutto delle donne di tenere i contatti, di creare quel collegamento tra la popolazione nel suo insieme, soprattutto nelle campagne, pensiamo, e il movimento partigiano è stato determinante. Ho capito. Negli anni scorsi, a proposito della resistenza, a un certo punto si è iniziato a parlare di guerra civile, anche dopo il libro fondamentale che ha scritto Claudio Pavone. Ed è un'espressione che ha alimentato molte polemiche, molte discussioni. Secondo te è giusto parlare della resistenza anche come di una guerra civile? Ma nei mesi stessi della resistenza, in tantissimi dei fogli e dei giornali delle brigate partigiane, penso soprattutto a quelle del Partito d'Azione e anche del Partito Socialista, si trova continuamente la formula stiamo vivendo una guerra civile, e dobbiamo vincere questa guerra civile. È stato solo nel dopoguerra, che siccome guerra civile è stato il termine utilizzato dai neofascisti del movimento social italiano per cercare di mettersi sullo stesso piano morale, perlomeno, dei partigiani, che da parte della memoria della resistenza si è preferito evitare questo nome, questa caratterizzazione. Quando è uscito il libro di Pavone che tu ricordavi, io mi ricordo che l'ho accompagnato in molti istituti della resistenza e c'erano vecchi partigiani che quasi lo insultavano perché aveva parlato di guerra civile invece di guerra patriottica, guerra per la libertà. Però credo che fosse inevitabile e sia inevitabile parlare di guerra civile. Tra l'altro se noi guardiamo per esempio le lettere degli ultimi, le ultime lettere dei condannati a morte della resistenza e quella invece dei fascisti della Repubblica Sociale, vediamo proprio che c'è una diversità di accenni che fa capire quali fossero le due parti della guerra civile. Le lettere degli ultimi condannati a morte della resistenza parlano tutti di libertà, di patria, di ricostruire una società giusta. Quelli della Repubblica Sociale parlano solo di onore tradito, di coraggio, di lottare fino alla morte in nome di una coerenza non ben compresa. Quindi sono proprio due sistemi di valori, oltre che persone fisiche, che si combattevano in questa guerra civile. Ecco, questa discussione, questo dibattito sulla guerra civile ci ricorda che per molti anni, per decenni nel dopoguerra, diciamo la resistenza è stata avvolta da una sorta di mitologia un po' geografica e proprio la storiografia degli ultimi anni e anche il vostro libro, quello che avete fatto tu, Marcello Flores, insieme a Mimmo Franzinelli, è proprio... c'è stata la volontà appunto non tanto di demistificare, ma di avere una visione più disincantata, senza tabù, della resistenza, riconoscendone evidentemente l'importanza essenziale senza volerla delegittimare. Però come mai c'è stata questa mitologia e come mai c'è voluto così tanto tempo per avere una visione, diciamo così, più equilibrata della resistenza? Ma avere una visione più equilibrata del passato è qualcosa che spesso ha bisogno di parecchi decenni, come è successo anche in Francia, per esempio, per quello che è il regime di Vichy, che prima di poter essere affrontato come stato con grande capacità da storici e poi da tutta la società nel suo insieme ha avuto un periodo di rimozione abbastanza grossa. Nel caso della resistenza in Italia la mitologia è nata durante la Guerra Fredda, in cui da una parte i comunisti esclusi dal governo all'opposizione la rivendicavano come il momento cruciale e venivano accusati di essere stati quelli che avevano cercato di egemonizzare la resistenza per fini politici, per produrre anche in Italia la rivoluzione. Ora i comunisti in Italia erano quelli numericamente maggioritari, però la resistenza comunista non ha mai minimamente pensato di fare la rivoluzione in Italia attraverso la resistenza perché era chiaro che l'Italia stava nella sfera occidentale degli anglo-americani. E quindi poi il racconto, la memoria della resistenza è sempre stata particolarmente eroica, molto retorica e solo col tempo si è andati, grazie a tantissimi studi, molti dei quali locali, regionali, eccetera, a comprendere, a capire bene tutte le dinamiche, e tutta la realtà che c'era dietro e che si è riusciti anche a vedere quelle che sono le zone grigie o le zone buie, cioè dei conflitti, a volte dei conflitti terribili, anche armati tra partigiani di una parte o dell'altra o di violenze ingiustificate o esagerate che adesso però sostanzialmente la storiografia ha messo, diciamo, pienamente alla luce, ha portato. Senti, la resistenza naturalmente, oltre alla dimensione militare, diciamo, c'è stata per la resistenza tutta una dimensione politica e civile. Da questo punto di vista, quali sono gli elementi essenziali che si possono ricordare? Ma quello fondamentale è che l'unità politica della resistenza, che poi è stato uno dei momenti della retorica successiva, ha due aspetti. Uno iniziale molto forte, perché sono tutti i partiti antifascisti, da quello liberale a quello socialista, azionista, comunista e alla democrazia cristiana, che creano il Comitato di Liberazione Nazionale. Ma la vera unità tra di loro la riescono a costruire solamente praticamente nel febbraio-marzo del 1945. Fino a quel momento è un insieme di rapporti molto tesi, molto difficili, non sempre unitari, che però dove ognuno marcia insieme agli altri e separatamente per lo stesso obiettivo e si riuscirà ad arrivare in modo un po' fortunato, ma anche per la volontà politica molto forte, poco prima dell'insurrezione, a prepararla insieme e a presentarsi quindi in questo modo unitario di fronte alla nuova libertà conquistata. E oggi, 75 anni dopo il 25 aprile del 1945, quali sono gli elementi, le lezioni che ancora possiamo trarre, che sono ancora utili per la nostra vita politica, per la nostra vita sociale, per il mondo in cui viviamo? Ma credo che quella fondamentale è dell'impegno e della responsabilità personale, perché tutti quelli che hanno partecipato alle tante forme di resistenza che ci sono state in quel bienio, ma anche quelli che non hanno partecipato o quelli che addirittura invece hanno aiutato in modo diverso il nazifascismo, lo hanno fatto con una scelta, con un momento di impegno e di partecipazione che è la caratteristica che poi la fase della libertà, della democrazia, della Repubblica ci hanno portato. Quindi è il capire che c'è anche nei momenti più difficili la partecipazione, l'impegno e la responsabilità individuale ha un ruolo che si può sempre giocare e che è fondamentale per influenzare anche le scelte collettive che fa un Paese. Il che forse potrebbe essere anche una lezione per questi nostri giorni, diciamo così, all'insegna del coronavirus, in cui siamo tutti costretti a stare a casa, ci troviamo di fronte a un nemico impensabile fino a poco tempo fa, forse anche in questo contesto quella lezione della resistenza può essere ancora utile. Senz'altro, sia dal punto di vista che ognuno di noi deve muoversi con responsabilità perché sa che può rischiare di mettere in difficoltà gli altri, ma anche perché ognuno può trovare il proprio ruolo. A me piace ricordare proprio, ci sono parecchi casi che noi riportiamo nel nostro libro, per esempio di giovanissimi medici che hanno partecipato alla resistenza, molti di loro sono rimasti poi uccisi e che hanno portato nelle popolazioni e poi anche nella battaglia quel loro entusiasmo che caratterizzava una missione particolare che era quella della loro professione. Quindi ancora una volta i risultati collettivi si attengono con l'impegno individuale, mi sembra di capire. Certamente. Ecco, questa forse è la lezione che possiamo trarre ancora oggi dalla storia della resistenza. Ringrazio Marcello Flores, ricordo ancora il suo libro scritto insieme allo storico Mimo Franzinelli, Storia della resistenza, delle edizioni La Terza. Grazie Marcello e auguri per tutto. Grazie a voi. Grazie a voi.